Oh, papagena... Ahahahah! Putti in cucina! This is a cinema! Super spesso! Ahahahah! Ahahahah! Ehi, ehi ragazzi! E' successa una cosa incredibile! Tom e Ginger vi hanno detto che ho imparato bene bene tutte le tabelline! Vi rendete conto? Proprio tutte! Tutte le tabelline! E poi, e poi hanno aggiunto A questo punto, piccolo Tom, potresti farle tu le lezioni di matematica! Incredibile! Io, piccolo Tom, divento insegnante di matematica! Da, da, da Samarello a professore! Allora, allora, ragazzi, cominciamo! Procederemo così! Dopo aver enunciato la moltiplicazione ci sarà una piccola pausa nella quale dovrete pronunciare a voce alta il risultato della moltiplicazione! Per ogni risposta esatta segnate su di un foglio un segno più! Per ogni risposta sbagliata segnate su di un foglio un segno meno! Ed allora, ragazzi, iniziamo con la tabellina del numero... 8! 8 per 1 8 8 8 per 2 16 8 per 3 24 8 per 4 32 8 per 5 40 8 per 6 48 8 per 7 56 8 per 8 64 8 per 9 72 8 per 10 80 E andiamo ora ragazzi Com'è andata? Avete risposto a tutte le moltiplicazioni? Se avete risposto esattamente ed avete assegnato sul foglio 10 segni più Passate ad un'altra tabellina Altrimenti ripetete questa fino a quando non avrete fatto nessun errore E sul vostro foglio ci saranno solo segni più Mi auguro che questa lezione di matematica vi sia piaciuta E spero di essere stato all'altezza nelle aspettative di Tom e Ginger Spero anche di rivedervi tutti presto per insegnarvi bene tutte le tabelline E allora ragazzi Ciao Arrivederci Alla prossima tabellina Con il vostro amico Piccolo Tom Ciao Ciao